Allora ragazzi buon lunedì come ogni settimana andiamo a vedere quello che è successo nella settimana scorsa nella settimana precedente a livello di mercato e a livello di notizie più importanti Anche questo lunedì qui ci svegliamo e vediamo un verde generale questo è sempre coin 360 gradi e ci dà un'idea di quello che è più o meno la sensazione all'inizio settimana Possiamo vedere che ci sono dei rialzi in generale su tutto il mercato perché dopo lo scossone arrivato a metà del mese a metà agosto a seguito della proroga dell'etf e della scadenza di alcuni futures Adesso stiamo andando verso una ripresa e stabilizzazione del prezzo che devo dire che poi alla fine dei conti fatti nel mese di agosto è stata abbastanza stabile Se andiamo a vedere a parte qualche picco in alto e picco in basso più o meno poi la media si è assestata su quelli che erano 6.000 6.500 dollari Andiamo a vederlo comunque nel dettaglio andiamo direttamente su CoinMarketCap Ricapitolando cosa è successo abbiamo una dominance che si è portata durante la settimana fino al 53% quella del bitcoin sull'intero mercato Adesso è 51.9% sul mercato che vale 215 miliardi di dollari Bitcoin appunto ha un lieve rialzo negli ultimi giorni dopo aver visto un picco molto basso dove avevamo ritestato di nuovo il supporto dei 6.000 dollari Ripeto supporto che è diventato ormai più che altro un supporto psicologico Molti sanno che scendendo sotto quel supporto psicologico si potrebbe cadere veramente in basso A quel punto c'è da parlare invece di Ethereum Se avete seguito il mio canale saprete che nella settimana precedente ho fatto ben due video dedicati esclusivamente ad Ethereum E che vi consiglio di guardare anche perché spiegano in particolare il perché Ethereum ha questo calo in questo periodo qui E perché troviamo una situazione particolare tra Ethereum e Ethereum Classic Ethereum Classic che come sappiamo è stato listato su Coinbase E da dove viene le origini di questa suddivisione tra i due asset Detto ciò vediamo che il mercato è in generale rialzo Ma come sempre visto che in questo periodo l'importanza prevalente ce l'ha quello che è comunque Bitcoin Andiamo nel particolare e vediamo brevemente quello che è stato l'andamento Possiamo vedere che appunto questa settimana dopo l'inizio diciamo disastroso Abbiamo comunque avuto un rialzo e devo dire una settimana abbastanza stabile per quello che è stato Bitcoin E in generale per il mercato Ethereum a parte non è che abbiamo visto grandi scossoni Andiamo a vedere la situazione mensile Ovviamente c'è stato il ribasso perché? Perché c'era l'attesa per l'ETF e poi l'ETF con la proroga è stato Ha riportato i prezzi su quello che adesso è una stabilizzazione sui 6.000 dollari Ma andando ad ampliare comunque la visione Vediamo che è un po' di tempo che ci troviamo a fluttuare tra questa fascia qui Che appunto si appoggia sempre sui 6.000 dollari E non riesce ad andare oltre quella che è comunque il prezzo di 8.000-8.500 dollari So che sto prendendo fasce molto ampie Ma questo è quello che è successo negli ultimi tre mesi Ricordando che appunto abbiamo visto cifre anche molto molto più alte Quello che può succedere Che può succedere? So che siete curiosi e me lo chiedete spesso Beh io non lo so perché mi spiace rispondere sinceramente ma non lo so veramente Effettivamente a 6.000 si è creato un bel punto supporto psicologico E in questa fase qui a meno che non escano grandi notizie positive, negative O comunque cose che movimenti di grosse balene che non possiamo prevedere Il prezzo si terrà su queste cifre Ma questo è quello che penso io perlomeno E cominceremo a rivedere un pochino più di situazioni penso da settembre in poi E comunque sempre tenete a mente che il 30 settembre c'è di nuovo un altro verdetto Per quello che è l'ETF della CBOI E intanto le notizie si susseguono Notizie importanti per questo lunedì qui sono soprattutto quelle a livello politico e internazionale Voi iniziare con il discorso della lira turca Lira turca che se avete seguito i giornali sta svalutando e ha un'inflazione a livelli esagerati Catastrofici potrei dire nel paese Ha perso più del 45% nel solo 2018 ed è molto più volatile che bitcoin stesso Si parla spesso appunto di volatilità nella cryptocurrency più conosciuta Quando poi in paesi come appunto Turchia e poi parlerò anche del Venezuela La moneta nazionale sta avendo una volatilità molto maggiore a quella che è comunque la volatilità del bitcoin E quindi insomma questo fa partire molte riflessioni Tra l'altro è una volatilità che va a ribasso Cioè sono monete che tendono solo a creare inflazione Perché per risolvere determinate situazioni comunque la banca centrale tende a stampare più moneta Se ne crea un quantitativo maggiore Quindi c'è un maggiore circolante nel paese E il valore della moneta stessa tende a sminuire In più ci sono diverse situazioni Adesso le situazioni politiche sarebbe troppo lungo analizzarle qui Ma in ogni caso cosa ha portato questa situazione Che sia da Google Trend dove possiamo vedere che in Turchia Bitcoin è stato cercata come parola chiave moltissimo nel mese d'agosto Sia a livello proprio di liquidità all'interno degli exchange turchi La popolarità del bitcoin è in ascesa Quindi in questo momento qui c'è ancora una fase in cui non è facile dire C'è chi si sbilancia un po' troppo secondo me In Turchia in questo momento certo c'è un interesse per quella che è la cryptocurrency più conosciuta Gli exchange sono ancora supportati dal sistema bancario Che cosa vuol dire? Che effettivamente stanno entrando in liquidità da quello che è il sistema bancario turco Agli exchange turchi E quindi si è visto un aumento di liquidità fino al 150% medio In tutti gli exchange principali della Turchia Parecchi quindi stanno passando da quella che era la lira turca a bitcoin se non appunto dollaro Però ancora la situazione non è chiara anche perché ci sono fattori anche religiosi Non è ancora molto chiaro se l'islam è appunto pro bitcoin E in generale non lo è per motivi appunto di religione Quindi ci sono fattori economici, politici, religiosi che vanno valutati Questo è il mondo delle cryptocurrency È la complessità che lo avvolge Vedremo come si sviluppa questa situazione Fatto sta che bitcoin è meno volatile di una moneta nazionale E questo è un discorso che comincia a diventare interessante Stessa cosa succede con il Venezuela e con il Bolivar Perché il Bolivar è in una caduta catastrofica ormai da tempo E sta svalutando giorno dopo giorno, mese dopo mese La soluzione che ha trovato il presidente Nicolas Maduro è quella di creare una cryptocurrency Che fosse coperta da un quantitativo pretolifero che effettivamente il Venezuela possiede Quindi si è creata una blockchain con una moneta digitale chiamata Petro Che ha un equivalente corrispondente al quantitativo delle risorse petrolifere che si trovano nel paese A quel punto con questa soluzione qui Petro punta a risollevare l'economia nazionale Avendo una moneta che si basi su un qualcosa di meno volatile Perché appunto il Bolivar è in caduta libera Quindi usando un cambio che va principalmente sul dollaro Perché non è che tutti hanno accesso anche a livello di conoscenze alle monete digitali Ma poi in secondo modo al Petro si ha la possibilità di fare Lui più che altro punta a investimenti internazionali Quindi a entrate di nuova liquidità soprattutto dall'Europa Quindi il cambio in euro e dal dollaro con gli americani Per avere un investimento nel paese e comprare la moneta Che però a conti fatti se tutto dovesse essere fatto in modo legittimo Andrebbero a comprare risorse petrolifere del paese Quindi in pratica il paese sta vendendo le sue risorse primarie Per poi risanare una situazione che comunque si era trovata in modo molto grave Questa è una vicenda molto delicata anche da discutere Perché appunto non è che posso io adesso esprimermi su una situazione Nella quale appunto il paese si sta svendendo a potenze più grandi E la modalità che si è trovata per poterlo fare è appunto tramite cryptocurrencies E qui è un discorso che scinde dal punto di vista tecnico o tecnologico O comunque che riguarda il mondo delle crypto È una via come un'altra Cosa interessante però che anche in questo caso bitcoin è molto più stabile Di quello che è stato il Bolivar negli ultimi anni Sono situazioni che stanno uscendo E questo è un altro motivo per cui bitcoin potrebbe diventare Una soluzione viabile ed interessante nel futuro prossimo La cosa importante è che bitcoin abbia una sua funzionalità Torno a ripeterlo il valore vero è quello della funzionalità Adesso queste sono le notizie principali Chiudo solamente dicendovi che c'è anche una dichiarazione del co-founder attuale Di Ethereum che è Joseph Lubin Ethereum che ha un discorso interessante perché ha perso parecchio durante questa settimana Che appunto ha con un'intervista a Bloomberg Ci dice di come il mercato non interessi allo sviluppo Non freni più tanto lo sviluppo effettivo dei lavori in corso sul progetto Anche se secondo me non è poi così perché in realtà quando c'è un'attrattiva di prezzo La community tende ad ingrandirsi e questo lo vedo in tutti i settori legati alle cripto Anche nell'interesse e nel seguito che c'è in un semplice canale YouTube Ma in realtà su qui mi trovo in disaccordo Più sale il prezzo più sale l'attrazione verso un settore E quindi più gente si unisce anche perché questa è una community principalmente open source Quindi la gente tende a partecipare anche a livello di mining Quando c'è un riscontro e un guadagno maggiore Però lui ovviamente tende a calmare le acque Diciamo a spegnere il fuoco che si è acceso Dicendo non è una situazione grave Anche se il prezzo scende C'è una vendita corposa da parte delle aziende che hanno raccolto in ICO E quindi adesso stanno facendo cassa In ogni caso a noi non interessa Perché il progetto Ethereum va avanti e noi stiamo lavorando Tra l'altro abbiamo già visto altre bolle E su questo mi trovo d'accordo In passato questa è perlomeno la sesta o la settima Dove ogni volta che c'è stata una bolla, una discesa pesante Si è pensato che fosse l'ultimo Comunque che fosse la più pesante di tutti Perché quella è la sensazione che si vive Quando si vive in tempo reale Poi riguardando al passato invece Si vede che sono solo piccoli spike In un mercato che è cresciuto molto di più in futuro Speriamo sia la stessa cosa Da qui al futuro prossimo E vediamo se Lubin avrà ragione o no E vediamo se Ethereum supererà le sue problematiche tecniche Cosa di cui ho parlato in particolare nel video della scorsa settimana Vi ringrazio per l'attenzione e per questa rubrica qui Ci vediamo lunedì prossimo E durante la settimana altre tipologie di video Ci vediamo al prossimo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti